Giornata densa di appuntamenti per il Consiglio regionale della Campania. Questa mattina l'Aula Consiliare ha ospitato un gruppo di studenti per i consueti incontri con le istituzioni dove in particolar modo si è puntata all'attenzione sulle leggi in materia di contrasto alla violenza di genere. Nella sala conferenze si è insediata la consulta delle donne con una seduta non priva di polemiche a causa della prossima scadenza naturale dell'attuale legislatura. La consulta resterà in carica 30 mesi e potrà quadruare i consiglieri nelle proposte di legge. Ascoltiamo il Presidente del Consiglio Pietro Foglia e il Consigliere PD Angela Cortese. Io ho un po' di esperienza, l'avevo con la Commissione Pari Opportunità e ho avuto modo di assistere ai vari litigi che siamo registrati tra di loro, però tutto sommato è anche strutturale. Io mi auguro solo che questo organismo lavori e aiuti il prossimo Consiglio evidentemente a mettere su delle proposte che vadano nel senso di migliorare in ogni settore a partire dall'istruzione, dal lavoro, dalla famiglia, dalla violenza, quella che è la condizione femminile nella nostra regione. Sediare una consulta delle donne a 15 giorni prima delle elezioni, a un mese meno dalle elezioni, mi sembra tanto una manovra e lo dico da donna che istituzionalmente si occupa di pari opportunità dal lontano 2002, quindi non da ieri, quindi non mi ritengo essere diciamo sospetta in questo. L'assessore alle politiche sociali Bianca D'Angelo spiega le novità inerenti alla consulta. La consulta è stata integrata e questa è la novità che rimarcheremo oggi dagli ordini professionali. La consulta è un organismo regionale datato 1977 e prevedeva nomine di associazioni, sindacati e nomine politiche. Naturalmente il mondo si è evoluto dal 77 ad oggi e gli ordini professionali che prima non avevano le loro rappresentanze all'interno dei propri ordini adesso le hanno.